Anche a Piedimonte Matese il randaggismo è un fenomeno diffuso, così come ovunque che si accentua in questi periodi estivi, perché non sono pochi gli incivili che abbandonano gli animaletti per strada per disfarsene in vista delle loro vacanze. Piedimonte città riesce ad arginare alla meglio il gravissimo problema. Vediamo come, nell'intervista che ha raccolto per noi Valentina Piedimonte. Sindaco, a seguito di numerose segnalazioni circa la problematica del randaggismo qui a Piedimonte nelle zone limitrofe, cosa possiamo fare realmente? Cosa si può fare? Penso che il problema del randaggismo è un problema diffuso in tutta la provincia di Caserta e non solo. Noi come città di Piedimonte già abbiamo anticipato queste problematiche con la realizzazione di un canile, un canile che fra non molto verrà aperto e verrà inaugurato. È una bella realtà, l'unico della provincia di Caserta, di essere gestito da un ente pubblico e dove all'interno ci sarà un ambulatorio veterinario gestito appunto dall'Asla. Quindi è una bella realtà, l'unico in provincia di Caserta, come dicevo, è uno dei pochi della regione Campania. Quindi possiamo dire che in questo modo possiamo tranquillizzare un po' i cittadini e tutti gli abitanti? Certo, tranquillizziamo i cittadini, gli abitanti, ma soprattutto gli ambientalisti, gli ambientalisti, dove sarà appunto possibile per esempio sterilizzare i cani direttamente presso l'ambulatorio veterinario. E da Piedimonte Matese è tutto, Valentina Monte per CasertaSera.it.